L'ufficio urbanistica di Franca Villafontana ha avviato un importante progetto per la nuova toponomastica del comune. Con un voto all'unanimità, la Commissione urbanistica ha individuato le contrade che saranno oggetto della mappatura e del rilevamento delle singole unità abitative. Il progetto prevede l'affidamento di un incarico esterno. La Commissione speciale sulla toponomastica fornirà un parere sui nomi da assegnare. Le contrade coinvolte includono Bax, Capece, Arma di Trao, Cantagallo, Termitone, Fontanelle, Dino Inferiore, Dino Superiore, Tredicina e Donna Laura. Questo complesso lavoro di ricognizione mira a qualificare queste aree come veri e propri borghi e a valorizzare le zone più popolate. Questo provvedimento si associa alla decisione di destinare ulteriori risorse al prossimo bilancio agli adempimenti urbanistici necessari al completamento delle nuove intitolazioni. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Francavilla Fontana, contribuendo a creare un ambiente urbano più identificabile e accogliente per i residenti e i visitatori.